E' una dose, era buggato tutto Mi colpiscono Vabbè Sì Scappa, scappa, scappa Io c'ho bisogno di più materiali, qua ci credo. No, quanta gente nemica! Aiaiaia! No! Ma dove è? Ah, dal furtino portatile. Come dal furtino portatile? Da dove sto io? C'è sopra di me. Non lo so, c'è un furtino portatile con un tizio nemico. Sto morendo. Ma no, c'è anche un strugino. Ma dove? Eccolo, eccolo, eccolo. Vedi che ha aperto la strada, era tutta una tattica. Da qua! Do stanno? Da dove? Vittoria reale. Sono morti tutti. Guarda qua, come costruisco le luci. No! Si stanno spostando. Si sono spostati, te lo dico. Te lo dico. Ne so sicuro. Ma non mi è scattato. Eccolo, infatti. A post. Da dove, da dove? Da... di fronte a me. Da di fronte a me? Non proprio di fronte. Lancia razzi! Eccolo, lo vedo. È proprio... Da... Come sto io di fronte? Dove c'è... Eccolo. E' lì, è lì. Non ha tirato. Eccolo. Prova. Eh che tizio, non è che puoi resistere all'infinito. Ma lo sparo fuori dalla safe. Buon mio! Grande! Eh, sono un fenomeno, sono un fenomeno. Eh sì. C'è poco da farci. Altro che Reckens. Ucciso. No, ma... Grande! Ehi. Ok, sì? Vabbè, intendo non vedi una cosa, sì. Andiamo al magazzino. L'ho vista un'altra. Di meteorite. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Che figo. Eh, vabbè. Oh, andiamo al magazzino. Andiamo al magazzino, sì, sì. Sì, però è un po' pericoloso giocare... Con lo sguardo verso il cielo. Vabbè. Boh, che ne so lo sta? Mo' mi ammazza a me. No, l'hanno ucciso, no. Con un razzo. Boh. Il praticante per una vittoria reale è mai perso nel 50.50. È incredibile. Io una volta, sì. Oh, l'ho la la. Sì L'ho messo a terra Non so probabilmente lo killo Se me lo No come Sì l'ho ucciso L'ho ucciso Sì io Spicciati Sei un infame Sei un po' in basso Un po' Possibile che la gente mi serve Perché devi finire i materiali Potevi dare a me Bumma I think I'm perfect She's perfect I'm perfect anderen I think mother And she's a very good